SIC conferma la propria presenza alla Fiera SPS di Parma, evento irrinunciabile per il mondo dell'automazione e decide di farlo raddoppiando la superficie espositiva e proiettando su uno stand di Fiera il proprio modello di business, quindi non solo componenti di serie, non solo sensori o sistemi di sicurezza, ma anche tutta quella che è la parte di consulenza legata al mondo safety e diverse soluzioni integrate, quindi quelli che noi chiamiamo sistemi di automazione, dove andiamo a mettere insieme le diverse tecnologie per riprodurre delle applicazioni reali e che possono essere facilmente implementati dai nostri clienti. L'Industria 4.0 probabilmente non sarebbe possibile senza SIC. SIC ha i sensori, e i sensori vogliono dire dati, dati che arrivano dalla produzione, dati che arrivano dal prodotto, dati che arrivano dai sistemi. SIC, con il Sensor Intelligence, con l'idea di generare una nuova famiglia di sensori intelligenti, si è portata avanti e oggi noi abbiamo dei sensori, degli Smart Sensor, in grado di essere realmente i piccoli mattoni dell'Industria 4.0. Cosa può fare SIC? Noi possiamo dare consulenza, possiamo dare prodotti innovativi, possiamo integrare i nostri prodotti in soluzioni fatte ad hoc, fatte su misura per i nostri clienti. Il sistema guida robot di SIC è composto in realtà di due sistemi, il PLB e PLOCK. Il PLB sfrutta una telecamera tridimensionale ruler, la quale va a leggere degli oggetti che sono posti alla rinfusa all'interno di un cassone. Una volta letti questi oggetti, invia i dati relativi ad un software che ottimizza la presa migliore e invia queste coordinate alla pinza del robot. Il PLOCK è un sistema di localizzazione del pezzo. Una volta che viene messa in un nastro trasportatore, c'è una telecamera Inspector P a due dimensioni che praticamente legge le dimensioni del pezzo e anche in questo caso trasmette al software le giuste coordinate per la presa. La Bell Checker è una soluzione realizzata da SIC per la lettura dei codici e i caratteri alfanumerici con OCR. È basata su hardware Inspector P e l'ambiente di sviluppo AppSpace. È in grado di leggere tutti i tipi di codici a barre e le scritte in chiaro come data di scadenza e codice lotto. È particolarmente indicata per le letture nel mondo del packaging. Pinspector è un sistema che sfrutta le potenzialità della telecamera Ranger. È una telecamera tridimensionale per il controllo, il check di un circuito stampato. Con questo sistema si può controllare molto facilmente se i pin all'interno del PCB sono stati collegati e connessi correttamente evitando eventuali saldature a freddo. SIC con il DBWS può fornire ai propri clienti una soluzione completa in grado di seguire l'identificazione, il peso e il volume dell'oggetto stesso. Nel caso specifico in Fiera abbiamo portato il nuovo sistema WML, un sistema volumetrico basato sulle nuove barriere MLG 2 Pro in grado di rilevare il volume degli oggetti trasparenti, degli oggetti scuri e quindi di garantire la massima produttività e la massima accuratezza della misura stessa.